Il progetto politico del Movimento Molise Domani ha aperto a Campobasso la stagione degli incontri con il simposio regionale e le sfide del Molise per un domani inclusivo e sostenibile. Molise Domani nasce come rappresentanza della società civile con l'obiettivo di creare una nuova generazione di governanti che operano per il bene comune con trasparenza, competenza e freschezza intellettuale. Interessante la carrellata di immagini fatta nella sala del Centrum Palace di Campobasso che si andava riempendo presenze politiche attuali come il segretario regionale del PD Facciolla, Vittorio Nola del Movimento 5 Stelle, attualissime come il sindaco di Sernia Castrataro e la giovane del Partito Democratico Caterina Cerrone, anime sindacali come Tecla Boccardo e icone meno attuali ma sempre attente alle evoluzioni al rispiro politico di certe aggregazioni. Astore, Chieffo, Dilisa, Cancellario, Torraco sicuramente avremo dimenticato qualcuno. Questa è la composizione mista e variegata dell'auditorium pronta a sentire il coordinatore regionale di Molise Domani Sergio Pastò intervenire sui gravi problemi della regione Molise cominciando dalla classe dirigente. Un cambiamento anche della classe dirigente e con delle proposte credibili e concrete. Sanità e infrastrutture, i punti nodali di intervento. Sono due problemi enormi che noi, uno dei quali affronteremo oggi, quello della sanità, perché ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale. Se si capirà che non è solo un cambiamento di facciata ma un cambiamento di paradigma, noi riusciremo a portare la sanità di questa regione ai livelli che forse non ha mai avuto. Tornando sulle priorità in discussione, oltre alla sanità e alle infrastrutture, l'energia. Allora il giorno è quello della sanità territoriale, il secondo è quello del problema dell'energia oggi così attuale per cercare di proporre, e l'abbiamo nella nostra visione, la possibilità di fare di questa regione la prima regione italiana che abbia emissione zero. A Campopasso solo il primo degli incontri. I prossimi passi sarà continuare a quello che abbiamo fatto fino ad oggi, cioè avere contatti continui con la gente, con le persone, soprattutto per ascoltare, tradurre in proposte e in progetti soprattutto le esigenze e bisogni della gente.